Ben trovati spettatrici e spettatori all'appuntamento con l'informazione dalla provincia di Lucca. Apriamo con la solidarietà perché grazie a una donazione di 500 mila euro sarà rinnovato il centro medico sociale di Castelvecchio. Un centro medico sociale in grado di aiutare nelle cure e meno ambienti e di fornire un utile servizio di ambulatori medici per tutta la comunità a prezzi comunque concorrenziali. Solgerà Castelvecchio Pascoli all'interno di quella che un tempo era la scuola elementare Mario Pascoli, dismessa da anni. La ristrutturazione sarà interamente finanziata grazie ad una cospicua donazione privata. Nella sede della Misericordia lunedì sera davanti ad una sala completamente gremita la presentazione di questa operazione. La donazione che permetterà tutto questo è di ben 500 mila euro e viene dalla famiglia Marcucci con i figli Andrea, Marialina e Paolo che hanno voluto con questo gesto omaggiare un luogo alla cui storia e dalla cui vita è legata a tutta la famiglia di in particolare a cui era affezionato il padre Guelfo. All'operazione ha collaborato anche l'amministrazione comunale proprietaria dell'immobile che ha fatto il possibile per snellire tutto l'iter per affidare lo stabile in uso alla Misericordia per oltre 20 anni. Come spiegato dal progettista all'architetto Adriano Picardi, lavori saranno invece eseguiti dalle imprese Coppi e Tecnoservizi, il primo piano dell'edificio rimodernato completamente negli impianti e negli interni verrà adeguato alle esigenze di ambulatori specialistici. Ne verranno realizzati cinque. E allora ascoltiamo le interviste realizzate in occasione di questa presentazione. Un gesto davvero generoso per la comunità di Castelvecchio. Una storia antica, la nostra, il territorio. Questa era la scuola dove insegnava la nostra nonna e questo è un ambiente, quello del Pascoli e delle strutture legate al Pascoli che sono sempre state nel cuore del mio babbo. Quando abbiamo avuto l'opportunità io, Maria Lina, Paola abbiamo deciso di mettere così, di fare un piccolo gesto di disponibilità nei confronti della Misericordia proprio perché valorizzasse queste strutture. Quindi una storia di famiglia, un piccolo gesto, io credo solo di ringraziamento, rispetto a una comunità. La Misericordia ha preso in gestione il fabbricato dal Comune, realizzerà un centro medico dove oltre a prestazioni professionali a prezzo agevolato per la cittadinanza ci saranno anche prestazioni gratuite a favore delle persone meno abbienti. E adesso la cronaca, multe salate fino a 50.000 euro per due professionisti della provincia di Lucca finiti nel mirino della Guardia di Finanza. Due professionisti della provincia di Lucca sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza con l'accusa di gravi violazioni delle normative antiriciclaggio. Dopo i controlli delle fiamme gialle, entrambi gli imprenditori, uno con studio a Capannori, l'altro a Viareggio, rischiano multe fino a 50.000 euro per pratiche non idonee. I riscontri ottenuti dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria nei confronti dei professionisti giuridico-contabili della provincia di Lucca hanno consentito di accertare, in un caso, la totale assenza del presidio antiriciclaggio e violazioni amministrative in relazione a 98 clienti dello studio, nell'altro due distinte condotte omissive, tra cui la mancata segnalazione di operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria. Sono illeciti ritenuti dal legislatore piuttosto insidiosi, che come detto prevedono anche maxi-sanzioni fino a 50.000 euro. E adesso vi portiamo alla Scala di Milano per la presentazione del settantesimo Festival Pucciniano. Nell'atmosfera magica intrisa di storia della Scala di Milano, il settantesimo Festival Pucciniano è stato presentato stamani. Questo evento, che celebra l'eredità e il genio di Giacomo Puccini, ha promesso di portare in scena produzioni indimenticabili e di trasportare il pubblico in un viaggio emotivo attraverso le sue opere immortali. Il programma del Festival si aprirà il 12 luglio con il dittico Levilli ed Edgar. Seguiranno Manon Lescaux, Bohème, Tosca, Turandot e per celebrare i 120 anni dalla prima rappresentazione, due serate con Madame Butterfly. L'edizione numero 70 del Festival di Torre del Lago assume un significato particolare perché coincide con i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, un artista che appartiene all'intera umanità e che ci ha lasciato in eredità opere che sono un concentrato di genio e bellezza. È tutto per la cronaca ma restate con noi.